la puntata di uomini e donne si concentra inizialmente su elena la quale accusa i presenti in studio di averle riservato un forte attacco mediatico in particolare la dama oggi si riferisce a quanto accaduto nella registrazione precedente quando si è seduta di fronte a maurizio e a fianco gemma galgani al centro studio qui è stata attaccata per aver chiuso velocemente le sue prime conoscenze durante le quali sono nati dei baci a generare stupore è stata la parola esperimenti da lei stessa utilizzata per parlare delle sue frequentazioni durate pochissimo tempo ciò è venuto fuori nel momento in cui mauro l'ha accusata di aver chiuso la conoscenza troppo velocemente dopo una sola uscita sentendo quella parola maria de filippi ha ironizzato ed ecco che oggi elena si lascia andare a uno sfogo crede di aver ricevuto un attacco mediatico accusa mauro inoltre di aver cercato la gloria in studio perché gli aveva dato un due di picche dopo una settimana di conoscenza avevo il parterre femminile contro spiega la dama furiosa nello studio di uomini e donne intervengono tina cipollari e gianni sperti i quali non ritengono che elena sia stata messa sotto accusa per chissà quale motivo o che sia nata una bufera intorno alla sua persona in effetti non ha ricevuto chissà quali attacchi da parte dei presenti in studio oltre questo prendendo parte a un programma televisivo si è consapevoli del fatto che potrebbero nascere dei commenti negativi tina è una furia e si scaglia in tutti i modi contro elena pensi che porti gli occhiali da vista e la collana da vista e sei una persona intellettuale hai scelto tu di venire qui cosa mi significa questo tuona invece gianni a questo punto interviene maria de filippi la quale le porge anche le sue scuse qualora avesse frainteso il suo intervento penso che l'altra volta sottolineavano il comportamento avuto non tanto perché hai baciato due signori ma per il blocco di maurizio non certo perché hai baciato due uomini non mi sono resa conto se no sarei intervenuta mi dispiace poi quando parla mauro parla un uomo deluso per una conoscenza finita può darsi che dal tuo punto di vista l'hai vissuta diversamente io ho detto cavia se non ricordo male quando hai parlato di esperimenti ti chiedo scusa giuro elena non era mia intenzione offenderti così queen mary riesce a calmare la situazione e a far riflettere elena sulla questione agendo nel modo più corretto